Musica Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Parlo del Genio benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo Vigilia di Arsenal-Napoli Grandissima partita, seconda giornata del Girone di Champions che vede anche coinvolte Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia Napoli e Arsenal sono in testa domani grande partita all'Emirats e ovviamente speciali su Canale 8 a partire da mercoledì, poi giovedì, venerdì di nuovo a Tutto Campo seguite con attenzione i nostri TG e qualche edizione speciale di A Tutto Campo pronta per essere in onda altrimenti ci rivediamo poi venerdì per fare il punto della situazione e tornare anche a parlare di campionato campionato dove Napoli ha vinto la quinta partita su sei davvero incidente di percorso col Sassuolo poi tre vittorie consecutive fuori casa e una buonissima prestazione a Genoa di tutta la squadra tra un attimo ne parliamo andiamo a rivedere le immagini ascoltiamo le interviste con Benitez e Hiller e ci proiettiamo anche già la gara con l'Arsenal e poi andiamo col filo diretto però iniziamo subito con un paio di telefonate poi avremo il momento di rivisitazione di Genoa Napoli anche in proiezione Champions League con alcune dichiarazioni ripeto che sono proprio su questo tema e parleremo ovviamente di tutto quello che è successo nella giornata di campionato che ci siamo lasciati alle spalle andiamo ad ascoltare il primo telespettatore con noi Ciao Paolo, sono Luca Prego tutti di essere velocissimi perché abbiamo chiaramente tante cose da vedere anche insieme Ti volevo chiedere una considerazione Benitez sta facendo secondo me molto bene a fare il turnover perché domani si vedranno secondo me i frutti di questa scelta anche perché io penso che il gol per esempio come ho preso con il Sassuolo è colpa del portiere non do colpa tanto al difensore ma in pratica è quello del portiere che deve coprire il palo Però io sono del parere tornando un attimo proprio dietro ancora col Sassuolo che molti hanno detto colpa di Cannavaro qualcuno ha detto colpa di Fernandez tu dici colpa di Reina ognuno può avere la sua opinione devo dire che però secondo me quella che più si avvicina alla realtà è quella lì che è colpa dell'atteggiamento sbagliato che ha avuto la squadra e dell'eccessivo turnover dopodiché Benitez dice che l'eccessivo turnover è fatto perché bisogna arrivare forti tutti e coinvolti tutti ecco queste due parole metterei vicino tutti in grande condizione e tutti coinvolti con tanti minuti nelle gambe alla fine della stagione quando serviranno tutti io dico che ho un'altra idea però e lo dimostrerò nelle prossime puntate che le grandi squadre alcuni amici li ringrazio mi hanno mandato le statistiche precise delle quattro squadre che avevo menzionato cioè Bayer Monaco, Barcellona, Manchester United e Inter squadre in grado di vincere tutto in un anno e ci sono almeno 7-8 giocatori per squadra io lo ricordavo a memoria ora ho le statistiche stampate non ne parlo stasera però andrò nel dettaglio per dimostrare che si può fare con quali calciatori si può fare con quelli del Napoli attuale si può fare questa è una domanda che ci siamo posti noi evidentemente se l'è posta anche Benitez forse la risposta di Benitez che per il momento non ci sono 7-8 calciatori in grado di giocare 45 partite quindi ricorre al Tour 9 e quindi e concludo ci dobbiamo fidare di Benitez ma tu non pensi che l'unico giocatore fondamentale sia Berami cioè non abbiamo il sostituto sì perché non abbiamo assolutamente il sostituto sì secondo me un altro che è molto molto difficile da sostituire è Zuniga oltre ovviamente anche Albiol anche Cagliecon Cagliecon guarda caso questi quattro nomi che abbiamo fatti e te mancavano tutti e quattro all'inizio contro il Sassuolo è l'unica partita che finora il Napoli non ha vinto comunque l'allenatore ha dimostrato di sapere mettere bene in campo l'allenatore del Napoli non si può discutere qualche volta si può dire nonostante non si discute che il Napoli deve essere totalmente affidato nelle mani di Benitez per i prossimi 5-6-7 anni più a lungo possibile per farci vincere qualche cosa su questo io non cambierò idea mai però qualche volta questo non mi impedirà qualche volta di dire che non sono d'accordo con qualche scelta questo ovviamente sempre con la massima stima e fiducia nei confronti di questo tecnico ma sincera proprio profonda direi e poi diciamo lui sfrutta bene il materiale umano cioè dovrebbero prendere qualche giocatore più di qualità penso che poi farebbe ancora meglio Paolo ti ringrazio grazie a te ciao grazie allora facciamo una cosa mentre arriva la seconda telefonata poi incominciamo con le immagini andiamo velocissimi alla lavagnetta poi prendiamo subito la telefonata ha fatto questo per provare a cambiare il corso della partita il Napoli l'aveva in mano riusciva ad attaccare benissimo qui con Zuniga non riuscivano a prenderlo perché chiaramente il terzino era impegnato con Insigne doveva scalare Biondini ma faceva una grande fatica e quindi la difesa a tre non riusciva assolutamente a tenere Pandeve e Zapata che si inseriva molto bene grandi direi i movimenti sia di Cagliecon che di Insigne che al turno venivano verso il centro scombinavano un po' tutti i piani della difesa anche se hanno messo Matusa nel più interditore di Lodi qui non riuscivano era sempre l'inferiorità in questa zona del campo dove il Napoli faceva girare molto bene palla accorciando molto bene con tutta la squadra grandi movimenti direi di Cagliecon e di Insigne il Compande va anche molto bravo a partire da lontano e poi a diventare lui prima punta su Zapata che usciva e questo ha portato a due gol del Napoli il Genoa come ha cambiato? togliendo Gamberini e mettendo questo esterno molto pericoloso qui sulla fascia sinistra e poi aveva dall'altra parte aveva spostato Biondini perché con Calaio e con Giro Stoian era l'esterno a sinistra con Calaio e con Gilardino non si può mai giocare con tre punte molti hanno letto male la mossa tattica di Liverani dicendo che è passato al 4-3-3 no è passato a un 4-4-2 in effetti arretrando i due terzini Antonini da una parte Vesalico dall'altra poi due centrocampi centrali Biondini per all'inizio qui poi quando è entrato Fedsfadidis il greco Biondini è diventato anche centrale qui era molto offensivo era quasi un 4-2-4 alla fine che chiaramente allargando molto il gioco ha costretto il Napoli ad avere qualche difficoltà Siberami proteggeva bene anche Hiller bene però loro qualche situazione l'hanno creata perché avevano due giocatori molto tecnici sugli esterni e due giocatori molto fisici forti nell'uno contro uno centralmente con Cannavaro che aveva preso il posto di Albiol e Britos quindi qualche pericolo l'hanno creato non più di tanto abbiamo visto però il Napoli ha retto bene anche contro questo schieramento ed è ripartito sempre bene con maggiore cattiveria avrebbe potuto fare il terzo gol che non è arrivato per poco la gara di domani con l'Arsenal ne approfitto visto che ci troviamo alla lavagnetta per poi chiudere direttamente con la lavagnetta prevede proprio una situazione molto simile perché loro giocano con quattro difensori fanno fuorigioco con una squadra che pressa tanto e alza molto la linea bisognerà essere bravi quando recupereremo palla perché loro salgono subito con i quattro difensori e bisognerà essere bravi lì a trovare gli spazi a infilarli perché qualche cosa ti lasciano quando attaccano moltissimo sugli esterni e con un trequartista e una punta centrale in mezzo al campo hanno Ramsey, Willsh giocatori di tecnica assoluta più trequartisti come Ozil questo nuovo Gnabry che sostituisce Wolcott poi c'è Giroga che è l'unico giocatore fisico e quindi poi sono tutti giocatori soprattutto di grandissima tecnica di grandissimo palleggio anche gli esterni Gibbs e Sagnat accompagnano molto Mertesacker e Koscellin sono i due difensori davanti a Cesni questa è la squadra che proporrà molto offensiva Larsen anche il Napoli risponderà io credo Mesto e Zuniga ma potrebbe essere Zuniga qui Armero qui poi sicuramente Albiol Britos davanti a Reina credo Hiller e non Berami quindi Hiller e non Gemayli scusate vicino a Berami e credo nonostante la grande prova di Pande per tenere larghi i giocatori davanti più Cagliecon con con ovviamente Insigne Pande vorrebbe avere qualche possibilità e Higuain sia lui che Albiol dovrebbero farcela altrimenti sono Cannavaro e Pande i due che giocano ma credo che alla fine giocheranno i due giocatori provenienti dal Real Madrid e poi Amski in questa posizione ma non solo in questa posizione di trequartista vicino a Higuain ma anche credo spesso di terzo centrocampista per scalare perché Berami spesso dovrà andare a dare una mano prendendo il loro trequartista e quindi spesso vedremo quasi un 4-3-3 del Napoli in alcuni momenti della gara nella fase passiva chiudiamo con questa lavagnetta di presentazione su Arsene Napoli vediamo chi c'è in linea pronto buonasera buonasera Paolo sono Fabrizio ciao buonasera a te alcune considerazioni vorrei dire che il calcio italiano praticamente è morto perché diciamo che il sistema dei Rubentis continua imperterrito ed è vomitevo scusami se ti interrompo io l'altra sera ero in treno devo dire la verità stavo tornando anche sì ho letto stavo tornando dal Genoa e devo ringraziarvi perché credo che sia stato battuto un record o giù di lì perché i post che hanno tanti mi piace e tanti commenti devono toccare temi che possono interessare a più persone per avere numeri così alti i miei numeri sono stati spaventosi e io ho scritto che effettivamente che la Juventus aveva avuto già 4-6 punti in più che non capisco come fanno a divertirsi a vincere così e che è uno schifo che il calcio italiano è sporco e poco credibile queste sono state le mie parole ammetto molto dure e hanno trovato un consenso di tante persone tantissime persone che hanno avuto questo consenso io devo dire ai pochi tifosi della Juventus che mi hanno scritto che la Juventus non è assolutamente non è un'ossessione come ha detto qualcuno che io sono ossessionato dalla Juventus a me della Juve frega nulla diciamo è un'avversaria del Napoli come tutte le altre purtroppo il Napoli ma anche la Roma anche la Fiorentina queste squadre che vogliono fare grandi cose la Fiorentina l'anno scorso non parliamo del Napoli con la Juventus ma la Fiorentina l'anno scorso è stata derubata dal Milan allora o la finiscono o bisogna trovare il modo per fargliela finire perché poi nelle televisioni nazionali ma nemmeno Malagò quindi ha fatto niente si parlava di questo Malagò del Coni no vabbè non è successo niente si cambiava qualcosa ma sono poteri troppo radicati capito ma allora rimaniamo noi che paghiamo sempre con un bugno di musche poi la cosa che mi fa impazzire non è l'episodio allora quando Conte risponde no voglio dire allora già che quest'anno è tutto scritto scusa mi volevo dire una cosa se no quella di me quando Conte risponde alla domanda ma era evidente il fuorigioco risponde sì ma era evidente anche il fallo di immobile è una risposta che lui non può dare perché se la Juventus per la prima volta nella sua storia si fosse trovata coinvolta in un gol favorevole regalato e allora possiamo capire che quella risposta si può anche dare ma sono tanti anni che succede sempre questo e non ci vuole nemmeno uno sforzo di memoria perché la settimana prima era successo qualcosa di molto più scandaloso perché quel gol di Paloschi non si può non si può annullare quel gol di Paloschi non si può Paolo perché non si attua qualcosa di concreto ma guarda io ho sempre mosso delle critiche molto forti io muovo delle critiche allora che lo diciamo di non scendere in campo di fare qualche cosa ma lo sai chi lo deve fare nessuno lo fa lo sai chi lo deve fare chi lo deve fare lo devono fare secondo me Napoli Roma Fiorentina non so chi altro si vuole ma vedo che nessuno fa niente per me lo devono fare loro perché poi è giusto anche verso di noi che paghiamo e rimaniamo con un bugio di moschi ogni anno per me Napoli e Fiorentina potrebbero fare è sempre la stessa storia per me Napoli Fiorentina e Roma potrebbero mettersi d'accordo e fare una bella televisione insieme per esempio questo sistema non si può debellare devono fare qualche cosa loro noi non possiamo fare nulla io più che ho quello che faccio a dirlo a scrivere però non serve a niente le trasmissioni nazionali sono tutti le trasmissioni nazionali non c'è un giorn lo dico e mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto per dire non c'è un giornalista un opinionista libero di dire che schifo la Juve ha avuto un altro regalo non lo possono dire altrimenti passa un mese una settimana non ce ne fanno accorgere ma quella persona non si siede più in quei salotti una domanda che mi faccio è perché da 30 anni si favorisce sempre questa squadra sono giochi di potere molto difficili perché non è che tu dagli agnelli perché come era stato pensato in maniera assurda che togli i moggi risolvi il problema perché sono movitevoli questi rubendini era una presa è stata una grande presa in giro Calciopoli perché togli i moggi risolvi il problema è stata la più grande presa in giro fatta ai tifosi italiani perché il problema si è ripresentato nel giro di due anni molto aggravato quindi è un potere troppo radicato che è un potere che non si chiama Moggi non si chiama oggi Marotta non si chiama Conte è un potere Juventus è un potere Milan anche mediatico devono ingrassare sempre loro non lo so come possiamo fare io sono pessimista ti dico che e allora nemmeno quest'anno non vinceremo niente noi dobbiamo secondo me guarda noi dobbiamo essere dieci punti secondo te vinceremo qualcosa noi dobbiamo essere dieci punti dobbiamo essere dieci punti più forti per vincere ma contro di noi attuano qualcosa contro di noi già stanno attuando qualche cosa perché per me quando il Napoli non viene penalizzato la Roma non viene penalizzata ma quando la Juve oggi potrebbe avere dodici punti ne ha sedici per me già ci hanno penalizzato allora che lo vediamo a fare questo spettacolo lo vediamo perché è una grande passione nostra è una passione nostra e come fanno a togliercela che non ce la tolgono certo dando i gol irregolari alla Juve ogni volta che vediamo quelle cose ci viene un momento di disgusto però poi siamo lì a vedere la partita chiaramente ti ringrazio grazie la storia è quella ciao Paolo ciao grazie vabbè io mi aspettavo questa telefonata su questo tema perché effettivamente ci siamo rimasti non è che ci siamo sorpresi no perché rispondo anche ai tanti amici che mi dicevano Paolo ma ti sei sorpreso no ragazzi non mi sono sorpreso per niente però insomma certe volte no sorprende però certe volte dice mamma non conoscete proprio vergogna perché una settimana prima allora era un gol assurdo quello di Paloschi da annullare la settimana dopo andate con gli occhi spalancati attenzione massima nel derby invece no che cosa succede anche lì si addormentano su una situazione poi la solita domanda che io mi pongo la risposta la conosco ma se fa un colpo di testa Cerci e prende il palo e arriva Maggiorini Cerci in fuorigioco al posto di Tevez e Maggiorini la mette dentro al posto di Pogba no? tanto per parlare della partita con gli stessi giocatori perché lo annullano? mi rispondete perché lo annullano quel gol perché lo annullano quel gol se lo fa Maggiorini e invece non lo annullano se lo fa Pogba questa è la vera domanda che dovrebbero porre a tutti quelli che occupano che le guardano queste trasmissioni il capo degli arbitri il capo della Federcalcio le guardano queste trasmissioni se una serata a Sky a Mediaset la passano ponendo questa domanda che è l'unica domanda da fare perché non succede ma è capovolto questa è l'unica domanda perché quando l'anno scorso mezza volta è successo perché mezza volta è successo in Juventus e Genova che poi non c'era l'episodio del calcio di rigore per la Juventus però su un'ipotesi di torto arbitrale subito Conte e Marotta non lo dimenticheremo mai hanno messo in mezzo che Guida era napoletana hanno provato ad ammazzarlo in mezzo al campo e tante altre cose di bassissimo livello perché questo non viene detto nelle trasmissioni non verrà mai detto nelle trasmissioni ve l'ho già detto e ve lo ripeto perché altrimenti il primo che si prenderà la briga di dirlo in una di queste trasmissioni non parteciperà più a queste trasmissioni visto che si divertono e ci guadagnano partecipandovi non lo diranno mai questa è la storiella raccontata molto velocemente vediamo chi c'è in linea pronto buonasera buonasera Paolo sono Marco Daformia ciao buonasera ciao Paolo relativamente al Napoli e a queste ultime due partite ci stiamo un po' tutti interrogando insomma quanto soprattutto tu lo stai facendo quanto insomma il turnover di Benitez ci permetterà di lottare su tutti i fronti per tutto l'anno insomma per vincere qualcosa io dico che il problema fondamentale come tu hai più volte detto è sempre lo stesso diciamo che secondo me si è presentato anche nelle Ramazzardi che secondo me era già un allenatore che ci poteva portare allo scudetto e che il Napoli come al solito diciamo termina le campagne acquisti senza quei due elementi in più che potrebbero garantire una rosa per poi fare il turnover esattamente assolutamente io però sono sempre dell'idea che invece il turnover accentuato non ti fa essere grandissima squadra e la mia idea è suffragata da numeri che sottoporrò alla vostra attenzione grazie all'aiuto di alcuni amici io ricordavo perfettamente la cosa così però gli amici mi hanno portato proprio le statistiche precise e vi dirò di quattro squadre che hanno vinto tutto che praticamente si può dire che il turnover non è che non c'era ma non c'era per almeno sette calciatori il turnover ci deve essere ma non deve coinvolgere tutti non deve essere fatto col misurino deve essere fatto con la consapevolezza che alcuni calciatori devono e possono giocare quasi sempre questo è vero Paolo però io a volte non mi riferisco nemmeno a quelle operazioni che magari li comportano un grande sborso ma anche a qualche operazione intelligenza collaterale insomma che possa completare la rosa insomma questo ne abbiamo già parlato io sono d'accordissimo con te anche io ho sperato fino all'ultimo secondo che arrivassi il centrocampista il difensore e ti dico anche l'attaccante perché Zapata vogliamo essere ottimisti però per il momento è un prospetto è un prospetto non è ancora un calciatore presentabilissimo diciamo così però va bene diciamo che può andare bene però il difensore il centrocampista io direi pure l'attaccante ci voleva mi rendo anche conto che se sul mercato le opzioni che il Napoli aveva in mente non sono andate a buon fine il Napoli ha preferito non prendere per prendere ma ha preferito lasciare le caselle vuote e non occuparle con giocatori che non riteneva all'altezza questa può essere la risposta del Napoli volevo chiudere velocemente mettendo l'accento su una cosa Paolo che secondo me cambiando argomento sabato sera a San Siro si è consumata una delle scene delle parentesi più vergognose a mio avviso della storia del calcio italiano con quello che è successo fuori lo stadio San Siro e penso che l'attenzione mediatica che si è stata rivolta a quello che è successo a San Siro sia stata veramente molto bassa come puoi pensare che lo facciano se sono legati a doppio filo con quelle realtà con la realtà della Juventus del Milan anche dell'Inter per certi versi perciò non a caso non era una dimenticanza la mia quando prima ho detto Napoli Roma Fiorentina non so Lazio non so chi altro dovrebbero allearsi non è che ho dimenticato volevo giusto vogliere l'occasione per farlo stasera con te per mettere l'accento visto che anche tu sei così attento perché credo che sia stata una parentesi di razzismo incredibile veramente di arroganza secondo me è un'altra parola da aggiungere perché poi razzismo sinceramente a me non tocca perché possono essere razzisti non mi sento discriminato razzialmente quando dicono terrone te è coleroso me ne frega nulla insomma e credo che a nessun napoletano ferisca no? questo tipo non ferisce però non ci ferisce il fatto di cui dobbiamo diciamo smorzare anche le loro velleità di feritori perché non ci feriscono ce ne freghiamo altamente però esistono delle regole sono delle provocazioni e sono forme che possono innescare la violenza ed è arroganza anche contro le istituzioni perché se ti squalificano una curva e tu fai peggio vuol dire che sei provocatorio come la Juve che gli tolgono due scudetti e scrive 31 sono provocazioni alle istituzioni e le istituzioni tremano io vorrei vedere le ho viste le reazioni delle istituzioni quando il Napoli si è ribellato a qualche cosa sono stati una mannaia feroce sono stati durissimi ti devo salutare ho la pubblicità no buonasera grazie pubblicità torniamo tra poco con le interviste che abbiamo realizzate a Genova una da non perdere convenite se vi spiegherò anche perché tra poco eccoci qui di nuovo in diretta prima di andare con la telefonata volevo dire due cose velocissime la prima è che a proposito dei fatti di Milano è stato pubblicato un video che avevamo in esclusiva sul nostro sito 100% Napoli per chi non l'avesse visto c'è ancora la possibilità ovviamente in notizie nella sezione notizie di trovarlo ma è stato visto da tantissimi amici quindi un bel video in esclusiva che dimostrava davvero il comportamento inaccettabile di questi chiamiamoli così tifosi io faccio sempre fatica a dire tifosi in certi casi sapete perché perché io per me è un termine molto nobile viene di solito relegato una valutazione a questo termine un'accezione molto negativa il tifoso viene sempre detto con quella latente ironia come dire lo stupido che va allo stadio invece il tifoso è una figura molto nobile io lo sono lo sono tante persone per bene che hanno una passione una fede per una squadra e la esprimono in una maniera molto bella anche colorata anche forte io sono il primo a esprimarla in maniera forte colorata però entro dei limiti questi che vanno fuori tutti i limiti per me non meritano l'etichetta di tifosi sono delle persone che amano un certo tipo di comportamento lo scontro la provocazione la violenza l'insulto c'entrano nulla vanno chiamati non lo so come in qualche caso delinquenti forse è la parola giusta ma tifosi è un termine nobile che io rispetterei quindi non li voglio chiamare tifosi abbiamo questo bel video abbiamo questo bel video sul 100%napoli.it che vi invito a visitare in esclusiva non è proprio un'esclusiva perché il termine esclusiva va usato bene e non è un'esclusiva però grazie a una mia richiesta a Nicola Lombardo accettata da Nicola Lombardo il capo della comunicazione del Napoli accettata molto cortesemente devo dire anche da Rafa Benizzi abbiamo realizzato questa intervista che è un'intervista particolare perché senza backdrop nel corridoio nel cortiletto fuori lo stadio Ferraris molto gentile Benitez a fermarsi a rispondere del resto è una persona intelligente non si ferma davanti a questo tipo di impegni con me c'erano però ecco perché non è esclusiva io ho avuto l'idea di chiederlo Lombardo e Benitez sono stati molto gentili ad accettare con me c'erano però il collega di Napoli TV il collega di RTN e il collega di Radio Kiss eravamo in quattro e quindi diciamo un'esclusiva di gruppo che abbiamo realizzato in questo modo e che andiamo ad ascoltare poi tra un attimo la telefonata e poi Hiller però prima Benitez Allora mister una bella vittoria subito una risposta prova di forza grande primo tempo e bella gestione nel secondo Sì mi sembra che sì che era d'inizio una partita difficile contro una squadra tosta una squadra che avevamo bisogno di vincere e lo abbiamo gestito bene d'inizio il possesso di palla era molto buono abbiamo arrivato con pericolo e dopo il secondo tempo loro hanno cambiato il modulo hanno fatto un po' più di pressione ma ancora eravamo più vicino al terzo gol che al 2-1 ma era 2-0 abbiamo vinto soddisfatto Duvan era il suo debutto nel campionato italiano come si è comportato? Mi sembra che l'ha fatto bene è un giocatore la prima volta in una partita così difficile ha fatto lo che doveva fare la palla aerea e dopo lasciare spazio per Pandev lui giocava contro tre difensori centrali ma Pandev aveva questa libertà ha fatto il lavoro che doveva fare per la squadra Ottima la risposta di Pandev proprio un giocatore che non aveva giocato bene mercoledì uno dei migliori due gol oggi Sì è importante sempre avere questa mentalità di fare le cose bene ogni partita e se qualcuno non va al 100% come si aspettava si deve ancora fare più sforzo per farlo bene Val Dondra più sereno ora al di là della vittoria anche perché Amsic ha riposato Iguain è rientrato soltanto nella ripresa Sì era tranquillo perché come ho detto prima sempre la rossa è importante dobbiamo gestirla e mi sembra che sia fatto bene vediamo dopo perché ogni partita è diversa ma almeno abbiamo due o tre giocatori che hanno un po' di freschezza per questa partita Poi gli chiedevo di Albiol però chiaramente ora la domanda è superata dalle notizie che arrivano sia lui che Iguain come vi dicevo prima dovrebbero farcela in questi momenti si sta svolgendo l'allenamento di rifinitura alle Emirates noi questa volta non siamo partiti il giorno prima avevamo la trasmissione questa sera abbiamo preferito farla e quindi da domani saremo a Londra e torneremo mercoledì ovviamente con le immagini che realizzeremo però per a tutto campo torniamo troppo tardi mercoledì per farla e quindi ci vediamo direttamente venerdì per a tutto campo però mercoledì invieremo le immagini per le edizioni del TG con degli speciali proprio da Londra sia nelle edizioni del TG di giovedì anche ovviamente di mercoledì che in quelle di giovedì telefonata in diretta con noi pronto? Buonasera Pronto? Ciao, buonasera Ciao, sono Rosario da Cassia Pultuno Ciao, buonasera Eh, volevo innanzitutto dirti la tua onestà sportiva è fantastica perché tutto quello che avete detto mi avete anticipato solo di due telefonate e forza Napoli per sempre perché se io fossi pure un milanese adesso proprio mi vergognerei di vivere proprio per quello che hanno fatto uno e due la Juve vediamo a fine campionato quanti punti si prenderà questo sono un po' critico perché onestamente sono un po' nauseato pure io anche se pure io quando giocano è una domenica sono molto 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 chifoso la cosa che mi ha preoccupato lo sai qual è sempre tornando su questo tema la cosa che mi ha preoccupato è che il Chievo dopo aver subito quel furto clamoroso si è andato a complimentare col Guardialine non ha detto nulla non si è lamentato il Torino ha accennato una piccola polemica ma non ma non si è lamentato insomma pare che non pare che ci sia una sorta di rassegnazione allora io dico se il Chievo e il Torino si vogliono rassegnare che si rassegnino tanto loro lo fanno un altro campionato noi non possiamo rassegnarci perché a loro il danno lo ha il Napoli lo ha la Roma quando la Juve è favorita perché al Chievo e al Torino la Juventus può togliere uno o due punti ma tanto poi li toglie pure alle altre a rotazione e quindi comunque loro nel loro campionato non hanno come obiettivo fare punti con la Juventus quindi tutto sommato non cambia la stagione di Chievo e Torino invece può cambiare la stagione di Napoli e Roma se riescono quest'anno se riescono dobbiamo dirlo se riescono Napoli Roma Inter Fiorentina non so chi a tenere botta fino alla fine la Juve e la Juve si ritrova con 7-8-10 punti regalati la stagione qual è? Chi ha subito il danno? Il Chievo e il Torino o il Napoli e la Roma? Il Napoli e la Roma è ovvio è normale Paolo questo è va bene grazie no sicurati Paolo ciao grazie domani sera forse a Napoli sempre ovviamente ciao ciao grazie andiamo ad ascoltare Hiller poi andiamo fino alla fine con le telefonate chiaramente dopo mercoledì volevamo subito dimostrare che volevamo questa vittoria una squadra che è sceso in campo con concentrazione altissima che volevamo vincere queste partite e poi primo tempo grande Goran che ha fatto due grandi gol per noi c'è una statistica che dice che il Napoli è la squadra che riesce a essere più corta e compatta sta in 30 metri quando sta in 30 metri fa male agli avversari e non soffre quando gli avversari recuperano palla queste sono statistiche ma noi ancora dobbiamo migliorare il nostro gioco dobbiamo crescere tantissimo chiaramente stiamo facendo un buon lavoro con il mister e poi ognuno deve sempre dare il massimo per crescere ancora in chiave campionato questa vittoria è una grande importanza perché bisogna andare forte c'è molta concorrenza ci sono tantissime squadre ogni partita in Serie A si deve giocare perché ogni partita è difficile sono tantissime squadre che giocano molto bene e noi dobbiamo guardare solo noi stessi e crescere tutti insieme io ho mai avuto problemi io do sempre il massimo per la squadra perché per me loro sono importanti senza di loro non si può fare queste prestazioni sono contento che la squadra vive tutti tirano in un lato e questo secondo me conta per tutti sicuramente sì è una vittoria aiuta sempre chiaro che dobbiamo stare bene calma e provare anche a fare in Champions una grande partita come oggi con l'Arsian sarà interessante perché loro proprio come filosofia con Wenger vogliono tenere tanto la palla accompagnare molto il gioco il Napoli con Benitez vuole fare altrettanto grande spettacolo sarà una partita in altissimo livello non sarà facile perché loro sono in gran forma e anche noi sarà una grande partita si prova stare lassù in vetta si prova sempre ma piedi a terra perché ci sono ancora tantissime partite da giocare eccoci qui dopo Hiller telefonata in diretta con noi pronto buonasera buonasera Paolo ciao ciao il tuo nome? senti Stefano da Napoli buonasera senti no vabbè ti ho un po' già detto tutto tranne una cosa circa quello che è successo durante il derby come giustamente hai fatto notare sembra che questi siano quasi rassegnati tanto poi alla fine più o meno la Juve ai punti li toglierà sia al Torino che al Chievo che all'Udinese di turno però almeno una cosa c'era ci facessero sapere per quanti campionati ancora deve durare questa situazione diciamo che l'alternativa c'è la soluzione c'è visto che la Juve la devono favorire devono equiparare alla Juve le squadre che lottano con la Juve quindi al Napoli alla Roma alla Fiorentina devono dare rigori che non ci sono con l'infuorigioco scherzo ovviamente no più che altro l'alternativa vera sarebbe si sentisse campione d'Italia che arriva secondo Paolo io lo scrissi l'anno scorso dopo Catania dopo Catania Juventus dopo Catania Juventus io scrissi io dopo Catania Juventus scrissi proprio ricordo le parole se il Napoli arriva secondo e poi il Napoli ci è arrivato secondo scendiamo in strada e festeggiamo lo scudetto sì sì è bello perché comunque non c'è tradizionalmente tutta la passione il tifo come diceva anche l'ascoltatore di prima però c'è a un certo punto ti passa la voglia cioè è inutile che ci giriamo intorno poi il calcio ha delle dinamiche molto particolari nella testa dei giocatori qualcuno dice sì però poi la Juventus l'anno scorso ti ha battuto in quella partita nello scontro diretto poi comunque tu non sei riuscito a batterla quando è venuta al Samp mi sta tutto bene sono discorsi validi però se nel momento di difficoltà come sta vivendo la Juve questo momento di difficoltà incomincia a perdere i punti come tutte le squadre perdono nel loro momento di difficoltà poi tutta questa fiducia è loro stessi quando sono in forma può darsi che non ce l'hanno nemmeno più perché hanno perso punti per strada tu togli certezze togli le certezze a una squadra come la Juve mentalmente significa dare anche un significato tattico perché se non possono vincere più le partite giocando in quel modo incominciano a fare un passo dietro e poi un altro passo dietro e perdono quelle partite piano piano le perdi perché perdi la fiducia mi attacco a quello che dici tu facendoci due esempi proprio recentissimi uno è contro il Sassuolo nel secondo tempo Hiller si tuffa palesemente nell'area avversaria in medio un'ammunizione alla Juve avrebbero dato un rigore tu vinci la partita porti a casa tre punti magari in meritati però porti a casa tre punti e qualcuno dice anche qualcuno ti verrà anche a dire ma tanto come fanno loro ma tanto la vincevamo lo stesso e intanto incominciate a fare i gol regolari però esatto poi la seconda è la storia dell'entusiasmo basta vedere la Roma Totti e De Rossi hanno smesso di fare l'allenatore hanno accettato l'allenatore nuovo che gli ha imposto la società si sono messi a giocare a calcio invece di spaccare lo spogliatore e vivono l'entusiasmo da quando hanno iniziato a vincere hanno vinto il derby e continuano a vincere cioè è un vestaggio delle squadre e tu ce lo insegni cioè alle volte magari anche becchi il filotto perché prendi entusiasmo allora l'entusiasmo non passerà mai perché quando non stanno bene vincono uguale è chiaro questo è l'analisi grazie grazie a te Paolo buona giornata devo dire che sulla Roma mi dispiace perché io in passato sono stato un grande stimatore di Zeeman poi Zeeman non si è adeguato alle novità regolamentari e tattiche del calcio e quindi le sue squadre sono rimaste delle squadre che possono far bene però in Serie B quando il livello tecnico è più basso e quindi un certo tipo di calcio si può fare perché chiaramente non ti puniscono con la giocata quando la difesa sale come sale la difesa della Roma di Zeeman in Serie B non ti puniscono un po' in Serie A ti ammazzano tutte perché c'è più qualità tecnica questo è semplice il difetto delle squadre di Zeeman tant'è vero che una conferma di quello che io pensavo è arrivata dal fatto che Andrea Zoli che non farà mai l'allenatore di una squadra di Serie A in vita sua più ha fatto sempre un collaboratore ha fatto una media punti superiore a quella di Zeeman e che oggi Garzia con una squadra che è rinforzata sì è buona hanno preso bei calciatori però sono andati via anche calciatori importantissimi come Osvaldo come Lamela comunque con uno zoccolo duro molto simile a quello che c'era l'anno scorso la Roma quest'anno è quasi da Scudetto o da Scudetto lo vedremo l'anno scorso non è arrivata nemmeno a guadagnare una qualificazione europea quindi questo tanto per non per rimbancare le mie vecchie polemiche con Zeemaniani ad oltranza e per carità io non faccio questo auguro a Zeeman di allenare presto e di rivedere alcune cose tattiche perché poi basta che rivedi alcune cose le sue squadre giocano un bellissimo calcio però ripeto dal punto di vista dei risultati ad altissimo livello vieni punito con quel calcio e lo sta dimostrando non certamente quello che sta dicendo ora Paolo Del Genio ma lo sta dimostrando Garzia un allenatore bravo di non grandissimo nome però aveva allenato e ottenuto grandi risultati però il cambiato francese che è sempre il quinto campionato più importante in Europa vediamo chi c'è in linea pronto? buonasera pronto? pronto ciao buonasera ciao Paolo buonasera tuo nome? Antonio Dallasoria ciao senti io volevo chiederti qualcosa sulla partita di domani però un piccolo inciso solamente guarda che pure io sono contro i favoritismi tutte queste cose qua però non è la partita di ieri che fa scandalo perché dare un gol così no 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 è bene però è il ripetersi mai l'errore dall'altra parte no sono quegli errori come è successo con il Napoli che si inventano i calci di rigore gli ha espulsioni queste cose qua ti fanno cambiare la partita ma un gol convalidato così che il fuorigioco si vede finalmente quando fanno la terapia è vero tutto quello che vogliono loro hanno ragione solo che se fosse casuale se è casuale dovrebbe capitare non dico una volta a favore una volta contro ma almeno tre volte a favore una contro invece se su dieci capita dieci a favore non ci troviamo più se senti tutto quello che è stato detto dopo Milan-Napoli la partita a Napoli gliel'hanno regalata ma sì però guarda io sinceramente io avrò una visione delle partite io sono abbastanza oggettivo quando vedo le partite anche del Napoli però devo ammettere io sono troppo tifoso del Napoli io ero a Milano come sempre a seguire la partita del Napoli io non ho visto proprio nulla e ho visto che i giocatori del Milano non protestavano che Allegri in conferenza non ha detto nulla quindi se la sono un po' inventate se la sono un po' inventate io non l'ho vista veramente se la sono inventate un po' in media questa polemica post Milan-Napoli non era successo proprio nulla ma in Milano non aveva detto nulla non l'aveva nemmeno dato quello è un simulatore Balotelli infatti ma per me veramente lo fanno passare per vittime perché quello fa tutte quelle cose per questo è un potere forte perché loro non devono fare nemmeno più nulla e dire nemmeno più nulla hanno le redini in mano in mille modi che abbiamo più volte espresso senti Paolo allora veloce veloce per domani guardi io voglio dire una cosa per quanto riguarda tutte le interviste che sto ascoltando su Benitez Benitez ha portato una ventata di nuovo che non abbiamo mai avuto un'esperienza tale di campi internazionali e quindi praticamente turn over lui sa quello che fa sì ma questo non c'è perché ormai è sperimentato quindi tutte quelle qualche polemica che si inizia qualcuno che ora voglio chiedere questo io spero vivamente che domani Albiol in difesa ci sia perché quando ci sta Albiol giocano bene anche gli altri non c'è dubbio tu c'hai qualche notizia no pare che ce la fa pare che ce la fa secondo te come dovrebbe andare la formazione no secondo me ripeto i dubbi possono essere due però io credo che giocherà Mesto e non Armero se gioca Armero chiaramente Zunica cambia fascia e l'altro dubbio potrebbe essere l'esperienza di Pandev però io credo che si partirà con le caratteristiche di Insigne che sono più funzionali al 4-2-3-1 come esterno perché Pandev poi se c'è Amsic dovrebbe andare esterno e abbiamo visto che il meglio lo dà invece da quando gioca centralmente quindi ci fidiamo di Benitez e poi conosce pure i campionati io l'ho scritto in ogni momento anche quando ho detto parlato di qualche cosa che io non condividevo di qualche scelta che io non condividevo ho sempre chiuso tutti i miei interventi televisivi i miei articoli su 100% Napoli con fidiamoci però di Benitez sì perché in effetti Giuliano non è un pacco così chiuso lo sappiamo bene insomma come senti Paolo un'ultimissima cosa però è la domanda a te diretta secondo te come mai il Napoli non è riuscito in queste ultime due partite a fare la tipologia di gioco che invece vuole Benitez il possesso palla in continuazione invece hanno iniziato un'altra volta con quella affanna a fare il lancio ti rispondo velocissimo non sono belli stretti no ti rispondo veloce no però ti rispondo grazie ciao grazie buonasera col Sassuolo è saltato tutto non la commentiamo più lasciamola perdere l'abbiamo detto che cosa è successo ma lasciamola perdere invece col Genova nel primo tempo secondo me si è fatto molto bene nel secondo il Genova non te l'ha fatto fare più perché si è messo a giocare molto offensivo e quindi tu naturalmente devi fare un passettino dietro secondo me 2 a 0 il Napoli è andato in gestione gara l'ha fatto anche bene perché ha corso pochissimi rischi io sono sempre dell'idea che la grande squadra la mentalità della grande squadra e la mentalità la chiamo così io per rendere l'idea del 3 a 0 perché il 3 a 0 ammazza la partita e il 2 a 0 lascia agli avversari qualche speranza e il Napoli forse deve fare questo passaggio ulteriore cioè deve capire che dopo il secondo deve cercare il terzo perché può farlo in molte gare e significa uno non rischiare e due anche risparmiare energie perché quando fai il terzo gli avversari si ammorbidiscono e ti fai un bel finale un bel secondo tempo un bel finale di partita rilassato vediamo chi c'è in linea pronto? ah va bene allora un attimo solo all'amico che abbiamo in diretta con noi perché dobbiamo ringraziare gli amici che sono con noi quest'anno in a tutto campo che sono gli amici del gruppo Margherita i fratelli Antonio e Luigi Dari che hanno rilevato l'intera gestione del gruppo i fratelli Dari sono dei medici esercitano la professione ma hanno una grande passione per la ristorazione per la buona e sana cucina tutto il gruppo Margherita ha una grande passione anche per il Napoli i calciatori del Napoli sono degli abitué del ristorante pizzeria Regina Margherita che si trova nella stupenda via Parteno un panorama suggestivo che fa da cornice ai tavoli esterni in un'atmosfera che al tramonto si arricchisce di fascino insomma è una location ideale per tutti e Regina Margherita è anche il giusto connubio tra ristorante e pizzeria la pizza e la regina indiscussa del menù ma il ristorante offre però delle specialità della tradizione della cucina partenopea in chiave moderna da assaggiare sicuramente l'aspetto più importante è quello legato proprio alla selezione dei prodotti che è minuziosa ed è controllata direttamente dai titolari che ne garantiscono qualità e freschezza ed essendo dei medici chiaramente pongono particolare attenzione a questo aspetto grazie a Regina Margherita grazie ai fratelli Dari partner di A Tutto Campo per la stagione 2013-2014 telefonata in linea con noi pronto buonasera confermo tutto quello che hai detto che ho mangiato benissimo grazie ciao buonasera a te niente ti voglio dire vorrei dirti una cosa perché non so a questo punto no se riderla metterla sulla risata ma perché se la pigliamo con Mazzolini ma se quello lo manda e sa benissimo chi è Mazzolini Nicchi e Braschi e stanno benissimo che dopo la Supercoppa per una decina d'anni con Napoli per una decina d'anni non doveva mai più arbitrare la Juve e l'hanno mandato e allora il problema è come a Monte non ce la pigliamo con l'arbitro gli arbitri vedi una volta si intercettavano questa è la differenza sostanziale tra Mò e Calciopoli allora il telefono non si può usare più però un arbitro che ha già sa perché è stato mandato lì da chi non gli devono dire nulla non deve dire nulla non deve intercettare non deve niente se io o a me mi mandano all'arbitrare la Juve vedi chi ha visto la partita e hanno visto che gli orari che si sono spostati il Napoli ha giocato prima dopo che cosa è successo in quella partita Mazzolini rideva in faccio a tutti a un certo momento a Cerci lo ha talmente ridicolizzato proprio a ridergli proprio in faccio Cerci ha avuto tre fallacci sulle gambe da Chiellini che invece si è parlato solo del fallo di Immobile su Tevez non solo c'è stato uno di Marchisio da dietro e infatti che era già ammonito se non sbaglio già ammonito ha fatto un fallaccio da espulsione non se ne parla assolutamente e vedi la differenza quando io ho fatto un problema mediatico non adesso 25 anni fa con te non adesso sto parlando di 20-25 anni fa e dicevo le stesse cose quando la Rai alla domenica sportiva vedi che i poteri dove stanno fa vedere il gol che è regolarmente in fuorigioco e a compensazione fa vedere 10-12 volte il fallaccio da dietro questo vale quello poi c'è l'intervista di Conte il quale dice se usciva Immobile sì l'ho sentito allora questo passaggio importante per chi fa informazione dalla stura dal significato preciso io ho avuto un torto se non avessi avuto un torto e questa è la ragione torte e ragione si equivalgono per cui non è successo niente c'è un piccolo dettaglio che aveva rubato tre giorni prima allora se questo dettaglio se io Nischi e Braschi prendo e faccio questa scelta senti l'ultimo a mandare è proprio Mazzolini perché hanno annullato un gol e lo stesso Conte non sa come rispondere per quel gol che ha avuto il Chievo Paloschi allora per favore è finita la trasmissione finito e questo è il passaggio il messaggio pensiamo a giocare la Coppa dei Campioni il campionato italiano è ridicolo grazie ciao ciao grazie sicuramente io ti dico che condivido tutta la tua telefonata le ultime dieci parole non riesco a condividerle perché poi io lo voglio giocare questo campionato perché vedo che come forza per carità tutto quello che hai detto l'ho detto anche io durante questa trasmissione l'ho scritto in maniera forte su 100% Napoli su Facebook nella maniera più forte possibile però io me lo voglio giocare perché vedo che noi che la Roma siamo altamente competitivi e non c'è più questa differenza quindi giochiamocelo vediamo che cosa si può fare non lo so che cosa si può fare forse niente ma proviamo a fare qualche cosa poi la Champions divertiamoci perché è un'esperienza straordinaria esperienza che vivremo tutti domani sera all'Emirates fra Arsenal e Napoli grande partita poi ne parliamo nei prossimi giorni sempre su Canale 8 un saluto da parte di Palo del Genio buon proseguimento con le nostre trasmissioni grazie 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 grazie